Buongiorno, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video è venerdì, sono a Parenzo in Croazia e domani correrò la Istria 300 adesso sono appena arrivato, cambiato, diretto al Valamar Diamant Hotel sala conferenze per un appuntamento media poi probabilmente faremo già un giro con i ragazzi dell'organizzazione Dossi, ci siamo Ciao, buongiorno Ciao I'm here for the media ride Hello, Willian, nice to meet you Matteo, nice to meet you Yeah, no problem, no worry per 100 km il giro, diciamo quello piccolo di 150 km e che dire, sono davvero contento di essere qua perché qua venivo spesso da piccolo in vacanza e conosco bene abbastanza le strade poi abbiamo fatto già un ritiro con la squadra nei primi anni sono posti davvero bellissimi per quella lara e mi devo fare i complimenti a tutti quanti trasferimento e domani saliremo da qua e l'anno scorso è stata la salita che mi è piaciuta di più in tutto il percorso infatti me la sono tutta ripassata adesso in furgone lì sotto Motovun qui siamo Opertali e poi scenderemo di qua poi qua c'è una lunga discesa veramente che spettacolo e poi ci sono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In questo ristorante Pranziamo e poi Partiamo per un giro Per rientrare a Parenzo Tutte le bici in fila Giustamente momento foto Non può mancare Andiamo arrivare Ci vediamo con le sostre di serenità Mangiare, abbiamo mangiato Adesso pedala Facciamo un giro Andiamo da Oportali L'abbiamo pranzato E rientriamo a Parenzo E pedala con noi Un piccolo Su un piccolo mattino Figata Uno un po' Emozionato Però lui è molto molto alla mano E ho fatto quattro chiacchiere a pranzo Uno easy Dunque ragazzi Non è un piccolo Io ho vinto la pericina E mica E ho vinto la pericina Non è un piccolo Non è un piccolo Non è un piccolo Non è un piccolo Sì, è vero. Sì, non smilio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'anno scorso l'arrivo era qua, ma quest'anno effettivamente non lo vedo. Che feo. Grazie. Grazie a tutti. Buon lavoro. Numero 43, griglia VIP, responsabilità. Ciao. Ciao, ciao. Buonasera. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, grazie. Maglietta ritirata, pacco gara, bacio e sonni. Vi faccio ancora un giro qua e poi rientro in albergo. Bene, sono di rientro alla mia stanza, possiamo salutarci anche qua per oggi, ci si vede domani, tanto non farò niente di particolare oggi pomeriggio e poi stasera è solo cena, caricare il serbatoio e domani sveglia presto e partire. Ok, quindi, con questo bellissimo panorama su lungomare, vi saluto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto questo video con il buon sonni lasciate un like e ci vediamo domani sulla griglia di partenza della Istria 300. Ciao, ciao.